sotto o tricoli si apre la stretta e selvaggia valle della nera impetuoso fiume montano che si dirige verso il tevere e che una volta segnava il confine geografico fra l'umbria e la sabina viene quindi in arni una delle più antiche città umbre col suo bel castello e campanili delle sue chiese il luogo è assai ameno la nera uscendo dalla sua strada incassata fra le rupi entra in una valle grandiosa e scorre fra armoniose colline un antico ponte romano riunisce ancora le due rive in fondo si scorgono i verdi monti dell'umbria amenissimi e ricchi di incantevoli luoghi fra cui ricorderò amelia a cinque miglia di distanza giace l'antica interamna oggi terni in mezzo a verdi colline la patria di tacito nulla credo possa essere più attraente di una gita per questi luoghi in primavera o in autunno oltre il suo bel castello narni possiede notevoli chiese e conventi come la cattedrale consacrata al primo vescovo della città san giovenale però il tesoro maggiore è rappresentato da un dipinto famoso dello spagna l'incoronazione della madonna nel convento degli zoccolanti dello stesso artista si trovano quadri in molti paesi dell'umbria alcuni gli sono però stati erroneamente attribuiti di mura ciclopiche non si hanno qui che pochi avanzi e degli antichi monumenti romani di questa città dove nacque nerva non rimane che il ponte di augusto sul nera quest'opera un di grandiosa appare anche oggi ammirabile sebbene dei tre o quattro archi che la componevano ne resti uno soltanto le imponenti rovine i flutti vorticosi della nera un vicino convento la città con la sua solenne architettura tutto contribuisce a dare a questo paesaggio un carattere di incomparabile bellezza verso la metà del secolo xii il ponte crollò al tempo degli hoestaufen non doveva esistere già più perché parsi faldoria generale di manfredi si annegò mentre voleva guardare in quel punto la corrente a nuoto con suo cavallo ambedue coperti di ferro si costruì allora il nuovo ponte più comodo per la sua posizione essendo troppo grande la spesa necessaria per restaurare l'antico la menzione fatta dal valoroso parsifal mi rammenta un'altra grande figura di guerriero che forma ancora uno dei vanti dei narnesi in padova di fronte alla cattedrale sorge il monumento equestre in bronzo del gatta melata opera di donatello la prima di questo genere compiuta in italia durante il rinascimento fu fatta per incarico della repubblica di venezia che così volle onorare la memoria di uno dei suoi più fedeli condottieri che fino al 1441 aveva servito la bandiera di san marco erasmo gatta melata nacque a narni un altro narnese diede lustro alla città nel secolo quindicesimo il cardinale bernardino eroli morto nel 1479 di cui la tomba è visibile nelle grotte di san pietro a roma la famiglia di lui che esiste ancora a narni ed è una delle prime del patriziato abita in un antico palazzo uno dei suoi membri è il marchese giovanni distinto antiquario ricercatore di documenti egli è veramente la cronaca vivente della sua città della quale ha descritto a fondo e riunito nella sua miscellanea narnese le cose più notevoli mi tratteni alquanto in questa città e visitai questo degno signore la vita di un patrizio in un piccolo centro campagnolo deve essere tanto più limitata e monotona quanto più esso possiede istruzione e talento il marchese lieto di ricevere un viaggiatore tanto più poi che veniva da roma e che si occupava di storia mi accolse con una grande cortesia e soddisfece pienamente alle mie domande circa l'archivio municipale di narni come sopra gli archivi delle altre città umbre e mi invitò ad accompagnarlo nel suo studio non era uno studio di disegno o di pittura ma di fotografia quando vi entrai credetti di essere penetrato in una tepida un tepidario perché il calore era così intenso da potersi appena tollerare e gli mi mostrò i suoi lavori che erano in vero così poco riusciti da non allettare granché i visitatori